Un saluto dal Tg della Mobilità. Sino al 5 settembre, lavori notturni per la manutenzione del ponte del viadotto della Magliana. Chiuse dalle 21 alle 6 le rampe di accesso da via Newton e da via della Magliana in direzione Eur. Deviate le linee di bus 31 e 780, il viadotto sarà chiuso da via della Magliana in direzione centro. E sulla Cassia Bissa sono in corso i lavori di sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale nel tratto tra l'innesto del raccordo anulare e lo svincolo per prima porta in entrambe le direzioni. Si circola su carreggiata ridotta, al lavoro è un cantiere mobile che occuperà di volta in volta un tratto di 500 metri delle corsie di sorpasso, lasciando comunque aperta una corsia per senso di marcia. Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro il 17 novembre di quest'anno. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.